In otto, allarga per Lazzari, ora Lazzari va a puntare l'avversario, Lazzari lo controlla bene Baritti, Lazzari si sposta la palla sulla sinistra, ora effettua il cross, la respinta e poi la conclusione di Mora, gollo straordinario di Luca Mora che porta la spalla in vantaggio al quinto minuto della ripresa, un missile dalla lunghissima distanza con il destro che non è il suo piede. Privato lanciatissimo su questo pallone Luca Mora ma che gol, che gol di Mora, uno dei gol più belli della spalla di questo campionato.